Dalle 17 in poi sono stati 25 gli interventi dei vigili del fuoco nel Vicentino a causa del maltempo, colpiti in particolare il capoluogo e il suo Interland. Il nubifragio, il forte vento e le grandinate in particolare hanno provocato la caduta di rami e alberi che hanno richiesto l'intervento dei pompieri per la messa in sicurezza di strade e parchi. Gli interventi si sono tutti risolti in serata, tra le località colpite ci sono Longare, la Riviera Berica, Camisano, Arcugnano e Contrada, Margherita, Torre Belvicino, alberi pericolanti anche in via Cengio a Vicenza in strada Pustubia, strada della Cammenda, via Durante, strada Monte Grande, sempre a Vicenza e in via Olmo ad Altavilla.